Allora, riprendendo, il compito che ci eravamo dati per oggi era di andare avanti su questo esercizio, vedendo alcuni delle altre punti richiesti. Noi alla volta scorsa avevamo risolto i punti dall'1 al 4, abbiamo detto di provare per conto vostro il punto 5 che è una piccola variante del 4, che l'esistenza del 4 e del 5 in qualche modo motivava la scelta che avevamo fatto, se vi ricordate, di non usare il metodo equals per confrontare due corsi, perché questi criteri potevano essere diversi a seconda della funzionalità e quindi abbiamo implementato dei metodi diversi per fare confronti particolari. Adesso il punto 6 utilizza in realtà il punto 4 e il punto 5 andando a modificare il metodo ADD, che cosa dice il punto 6? Modificare il metodo ADD in modo da evitare di inserire di valutazioni duplicate, stesso esame e stesso voto, quindi quelle che avevamo identificato nel punto 4, oppure in conflitto che sarebbero quelle che avremmo dovuto scoprire implementando il punto 5. Quindi torniamo al metodo ADD che avevamo implementato la volta scorsa, che era un metodo relativamente povero, nel senso che delegava brutalmente alla lista sottostante. qui in realtà stiamo dicendo, guarda, tu mi hai chiesto, questa è la classe libretto, di aggiungere un voto a questo libretto, io prima di aggiungerlo alla lista dei voti faccio una serie di controlli che alla fine decideranno se effettivamente va aggiunto oppure no. Può essere aggiunto solo se, diceva il testo, non è duplicato, non è in conflitto. Allora, duplicato vuol dire stesso esame e stesso voto, in conflitto vuol dire stesso esame e voto diverso. La frase duplicate o in conflitto alla fine vuol dire stesso esame e stesso voto oppure stesso esame e voto diverso, se la logica non mi tradisce vuol dire che il controllo che devo fare qua è stesso esame, che il voto sia uguale, che sia diverso, se il voto è uguale, cioè se io cerco di inserire un esame nuovo che esiste già, con lo stesso voto lo chiamo duplicato, con un voto diverso lo chiamo conflitto, qua in entrambi i casi che sia un duplicato che sia un conflitto lo devo, tra voi avete, rifiutare. quindi se vogliamo qua ho due scelte, o mi fido del metodo che avevo già scritto, quindi qua avevo scritto il metodo che si chiamava, dunque, esiste voto, l'avevamo chiamato così quando abbiamo implementato la volta scorsa e abbiamo visto che lo potevamo implementare o direttamente andando a prendere i parametri oppure delegando o richiedendo all'oggetto voto di dirci se soddisfava una certa condizione che avevamo poi implementato nella classe voto equals corso punti, no non l'avevamo implementato, abbiamo solo detto parole, scusate. Allora, qui le cose si stanno un po' complicando, nel senso che noi adesso abbiamo tre condizioni diverse da testare in momenti diversi, una potrebbe essere questa, esiste un voto, magari chiamiamolo duplicato e poi dovremo avere un metodo analogo, boolean, un esiste voto in conflitto, che dovrò implementare con una logica uguale, simile a questa, ma dove i punti sono diversi, non si hanno dimenticato un for, avevamo un voto nuovo, ci chiediamo, questo qui è un duplicato, cioè ha lo stesso nome e gli stessi punti, oppure questo voto è un voto in conflitto, cioè ha lo stesso nome e i punti sono diversi, altrimenti return false. Allora, avendo queste due funzioni noi possiamo implementare quella modifica al metodo add e poi cerchiamo di capire se è il modo migliore per farla, quindi uno può dire prima di raggiungere un voto, verifico se non si verifica nessuna o delle due condizioni sbagliate, quindi noi abbiamo this punto esiste voto conflitto del voto vi, oppure this punto esiste voto duplicato, sempre di vi, allora non posso aggiungere questo voto, non posso aggiungere il voto, altrimenti posso chiamare il metodo add e aggiungerlo come facevamo prima. Anche qua chiediamoci cosa fare in questo caso. Qui dobbiamo risolvere, se vogliamo, tre piccoli dubbi, uno è cosa facciamo quando il voto non può essere aggiunto, restituiamo un errore, non restituiamo qualcosa. Due, se ha senso chiamare questi due metodi, sapendo che ciascuno di questi due metodi va a fare una ricerca all'interno dell'elenco dei voti, e quindi in qualche modo stiamo visitando questa lista due volte, potrebbe essere meno efficiente che non visitare una volta sola, visto che alla fine l'unica condizione che verificheremo a che il nome siano uguali. E la terza piccola cosa da scegliere è se ha senso che questo confronto qua sia dentro la classe libretto, oppure è meglio metterlo dentro la classe voto e quindi far sì che il voto sappia dirci se esso stesso è in conflitto con un altro voto oppure no. Sono tre piccole scelte indipendenti che ci porteranno a tre piccole implementazioni leggermente diverse. Partiamo dalla prima. Cosa faccio quando in questo caso non posso inserire il voto? Anche qua le cose giuste possono essere tre, quella sbagliata può essere una, quella sbagliata potrebbe essere questa. Stampiamo un messaggio. Voto errato. Ovviamente questo ti stampa qualcosa sulla console quando si verifica una di quelle condizioni e poi non ti risolve nulla, nel senso che poi in questo caso poi chiamerebbe lo stesso return, il dis.a, l'ad.voti perché non è completo questo metodo. Però noi siamo in un contesto in cui l'utente sicuramente non legge la console perché avrà l'interfaccia grafica e quindi se c'è un messaggio bisogna farlo arrivare comunque all'interfaccia grafica e non stamparlo in console così di brutto. L'interfaccia grafica qua da dentro la classe libretto non è visibile. Stiamo cominciando a imparare il modello model view controller dove abbiamo visto che c'è una netta separazione tra le varie competenze. Quindi qua non c'è speranza che chi implementa questi metodi possa arrivare all'utente per chiedergli qualcosa o per dirgli qualche cosa. Ciò che dobbiamo fare è fare in modo che questo metodo comunichi con chi l'ha chiamato, col chiamante, in questo caso il programmino di test e più avanti sarà un bottone dell'interfaccia grafica del controller e gli faccia avere un'informazione che quell'operazione non ha avuto successo. Come lo possiamo fare? Quindi questo qua abbiamo detto è il modo sbagliato perché non serve a nulla. Sì ci può servire in debug per avere un messaggio ma poi lo dobbiamo togliere perché non risolve il problema. Allora il modo per affrontarlo sono tre ma poi alla fine due di questi si collastano. Uno è lanciamo un'eccezione. Uno dice vabbè se c'è un problema lanciamo un'eccezione. che non so, throw new potrebbe essere un illegal argument exception che ci sta bene, mi è passato un argomento che non dovevo. Voto errato, magari più v, facciamo più v così vediamo che cosa gli abbiamo passato. e in questo modo chi chiamerà il metodo add dovrà fare attenzione se questo metodo avviene, cioè lavora normalmente oppure catturare questa eccezione e decidere cosa fare. Questo è un modo. l'altro modo è quello di ragionare sul valore di ritorno. In questo caso abbiamo ragionato una... avevamo deciso che questo oggetto qua ritornava un boolean con la b minuscola e quindi è un valore primitivo. Questo può avere solamente valore true o false. Non possiamo ritornare un null perché boolean non può essere null. dovremmo mettere boolean con la b maiuscola che sia l'oggetto che contiene un boolean ma che esso stesso come riferimento può essere null. Ma questo può confondere chiaramente chi usa il metodo. Andiamo a vedere cosa fa il metodo add. Il metodo add c'è scritto che ritorna sempre true, l'avevamo visto la volta scorsa, no? Ritorna sempre true perché l'array list presuppone che si possa sempre aggiungere un elemento in coda. Allora, visto che il nostro metodo add è un pochino più furbo, potremmo dire, vabbè, anziché ritornare true, sempre, ritorna true se il voto si può aggiungere, false se invece ha violato qualche condizione per cui il voto non si potesse aggiungere. Quindi questa è un'altra possibilità. Noi dobbiamo comunicare al chiamante che qualcosa è andato male. Possiamo comunicarlo con un'eccezione e possiamo comunicarlo con un valore di ritorno. Un valore di ritorno che può essere, diciamo così, in questo caso un'estensione del valore di ritorno che mi dà l'add. Cioè l'add fa una certa cosa, noi l'estendiamo un pochino ma rimanendo nello stesso tremo, nello stesso aggiornamento. Oppure, il terzo caso, dicevo quindi, o ritorno falso o genero un'eccezione, il terzo caso ritorno null. Per ritorno null deve ovviamente modificare un po' l'assignatura della funzione in modo che ritorni un oggetto e non un valore primitivo. Ritornare null dovrebbe essere sempre, quasi sempre, l'ultima spiaggia. Perché è troppo facile ignorare un valore di ritorno per il chiamante se a Nars non è controllo di confruttarlo, eccetera. Quindi quando riusciamo sarebbe sempre bene ritornare un valore sensato che abbia senso oppure un'eccezione. Così in qualche modo il chiamante è più invogliato a verificare il valore che ha ricevuto oppure, perché magari lo deve usare, oppure a testare l'eccezione. In questo caso cosa è meglio fare? La risposta ovviamente non la so. Questo è il metodo di test, noi avevamo chiamato il metodo add qua, più volte. È un metodo add, quindi se io uso un metodo che si chiama add, do quasi per scontato che funzioni. Non mi viene in mente di controllare il risultato. Quindi se non funziona, forse è meglio, diciamo così, renderlo più esplicito. Quello che sto dicendo è che il programmatore che usa questo metodo add, non gli viene in mente di salvare, testare il valore di ritorno di ogni volta che ha chiamato add. Probabilmente l'eccezione in questo caso è la soluzione migliore. Ok? Perché oggi blocchiamo il programma, o il programmatore ha tenuto conto che il dato poteva essere sbagliato, e allora avrà messo un try-catch, o non ne ha tenuto conto e quindi è giusto che il programma si blocchi per dire al programmatore guarda che c'è un comportamento che non funzionava. Ok? Quindi io rimarrei tra le tre opzioni su questa, generiamo un'eccezione, e poi la facciamo catturare dal programma principale. In questo caso non devo aggiungere nessuna clausola a throws qua sopra, perché il legal argument exception è una sottoclasse di runtime exception, e quindi può essere generata in qualunque momento, altrimenti dovrei aggiungere, sapete, throws è il nome dell'eccezione, se lavoriamo con eccezioni custom. Ok, per poterlo testare devo fare due cosettine, tipo ad esempio qua c'era esiste voto, abbiamo detto che non esiste più la classe esiste voto, ma l'avevamo chiamato esiste voto duplicato, quindi devo solo modificare questo, perché nel programma di test abbiamo modificato un nome. Ok, finora dovrebbe funzionare, non ancora... Salva, ho fatto nulla di significativo, se lancio questa classe di test funziona ancora come prima, dovrebbe... perché abbiamo chiamato il metodo ADD solamente su esami che esistevano già, cioè che erano nuovi, che non esistevano ancora. Quindi io potrei provare a aggiungere una seconda volta, facciamolo in fondo, l'esame di informatica, che con lo stesso voto, chiamiamola data a caso, e vediamo cosa succede. Allora, se tutto va bene, mi dovrei vedere un errore qua sotto, infatti, del tipo voto errato, informatica il 2023, eccetera, eccetera. Poi qui c'è scritto errato, il messaggio d'errore non è così esplicativo, non mi dice se è errato nel senso che è un conflitto o che è un duplicato, dovrei andare forse a fare qualche controllo in più sull'eccezione. e quindi in questo caso il programma si blocca. Ovviamente non si può lasciare un programma che in alcune condizioni possa dare delle eccezioni e quindi il programmatore in questo punto dovrà gestire l'eccezione stessa, quindi catch questa è un illegal argument exception quindi in questo caso dirò attenzione errore nell'emissione errore nell'inserimento vuoto e poi se vogliamo posso aggiungere e punto get message allora io qua faccio le print line perché qui sono nel programma principale in questo caso è un programma di test però il programma principale è che interagisce direttamente con l'utente che è quello che in teoria chiede i dati all'utente l'inserisce eccetera quindi qui posso parlare con l'utente non dentro le classi del model quindi se fa tutto bene ovviamente non può fare altro che segnalarvi l'errore ma me lo segnala in modo corretto non sparando un'eccezione a video e non interrompendo l'esecuzione del programma poi sarà il programma che deciderà se a fronte di questa eccezione il dato deve essere richiesto dall'utente nel segnalato insomma tutto quello che vogliamo fare ma qui abbiamo la possibilità di deciderlo se questo dato fosse un dato che io inserisco interattivamente su una finestra allora posso dire all'utente correggi i dati sono sbagliati e quindi ha senso trattarlo in un certo modo se questo fosse un dato letto da un database e nel database quelli sono i dati non è che li posso modificare dire al database e senti guarda che è un dato scorretto quindi sono obbligato a fermarmi o ignorare quel dato a elaborare i successivi oppure fermare l'elaborazione del programma quindi il modo in cui gestisco questa eccezione dipende dal contesto in cui questo metodo viene chiamato quindi non lo posso sapere dentro la classe la classe fosse l'amministrazione di dire guarda questa operazione che mi hai chiesto non si può fare per i miei vincoli quindi in qualche modo quella che era nata come una semplice delega ad delega alla ad di voti va bene ma a questo punto comincia ad essere una delega un pochino più controllata che è il motivo per cui la classe libretto esiste per essere sicuri che lì dentro non ci vada a finire qualunque schifezza ma che segua certe regole di gestione altrimenti avremmo semplicemente usato un array list e avremmo finito tutto invece qua dobbiamo aggiungere delle funzionalità quindi questo era il primo primo punto di ragionamento il valore di ritorno il secondo punto di ragionamento era ma questi metodi qua esiste voto duplicato esiste voto di conflitto che è giusto che ci siano ovviamente devono fare loro questi confronti oppure sono confronti che è meglio diciamo così inserire nella classe voto allora seguendo il principio generale della chiamiamolo information hiding oppure diciamo che meno una classe sa a proposito degli oggetti che usa meglio funziona nel senso che può essere diciamo così sopportare delle modifiche al programma modifiche alle strutture dati senza doversi modificata mi verrebbe da dire che queste due concetti di corso duplicato e corso in conflitto li possiamo e alla fine sono concetti locali io ho un corso né un altro scusate un voto né un altro e quei due voti lì si confrontano quindi può essere una nozione che il voto stesso ha io sono in conflitto con te sì no non devo sapere qual è il libretto quanto è una operazione che si può fare appunto localmente conoscendo un dato solo quindi l'idea che mi viene è di prendere la classe voto e aggiungere due metodi public boolean is conflitto conflitto is duplicato prima voto v voto altro e poi un secondo metodo public boolean boolean is conflitto voto altro allora a questo punto cosa ci metto qua dentro beh essenzialmente la stessa cosa di prima è duplicato se qui stiamo semplicemente con return dis punto il nome get corso è uguale ad altro punto get corso e dis punto get voto get punti è uguale ad altro punto get punti e conflitto è uguale ma col diverso qua sotto con l'operatore diverso nel confronto dei voti ritorna questo è un end quindi ritorna true se è uguale il nome e contemporaneamente sono uguali i punti il primo caso il secondo è uguale il nome e contemporaneamente i punti sono diversi giusto andiamo a leggere la consegna è conflitto esame duplicato è stesso esame e stesso voto esame in conflitto è stesso esame e voto diverso quindi io sono un voto ti passo un altro voto e dico senti ma quest'altro voto è in conflitto con te o è duplicato con te allora innanzitutto ovviamente se il nome del corso è diverso no non c'è nessun conflitto nessuna duplicazione perché è un corso diverso se il nome è uguale allora vado a vedere il voto nel caso in cui il voto sia uguale è un duplicato nel caso in cui il voto sia diverso è un conflitto allora queste due funzioncine le possiamo a questo punto chiamare dentro il mio test libretto no scusate dentro la mia classe libretto nei metodi esiste voto duplicato in cui cosa deve fare deve iterare sui vari voti ovviamente perché il libretto ha più voti per ciascuno gli chiederò guarda questo che sto per inserire è in conflitto o no quindi if b punto is conflitto con nuovo return true e idem sotto anziché farmi test io chiedo alla classe voto sono troppe graffe qua scusatemi ah così è giusto if v punto is conflitto con il nuovo return true altrimenti return false questo era duplicato non era conflitto quindi che cosa vuol dire voti in conflitto che cosa vuol dire voti duplicati lo sa la classe voto sai domani decidessimo l'altra volta avuto discussione uno di voi su come è meglio memorizzare il trentalo ad esempio oppure se volessimo o dovessimo modificare anche i voti non sufficienti allora se tu hai un esame in cui hai voto non sufficiente diciamo così non passato e poi arriva un altro esame con un voto sufficiente non c'è nessun conflitto anzi quello nuovo sostituite quello vecchio in qualche modo e e quindi questo concetto di duplicato di conflitto dipende magari da alcuni dettagli di implementazione del voto a cui non abbiamo ancora pensato per ora abbiamo un'implementazione molto semplice nessuno ci può dire se in futuro questa implementazione dovrà diventare più complicata più intelligente gestire la load in modo separato con un booleano che dice load sì load no al punteggio va a sapere quindi in questo modo se dovessimo rendere la classe voto più intelligente la classe libretto non deve essere modificata ovviamente dovremmo modificare i metodi della classe voto per tenere conto della diversa diciamo così implementazione dei dati ok quindi questa è la seconda domandina dove è meglio fare questi confronti ovviamente la classe libretto è responsabile del ciclo perché è lei che ha tutti i voti ma poi il singolo test la fa la classe voto la terza domanda che c'eravamo fatti o almeno mi ero fatto o vi avevo fatto è sulla natura del test che stiamo facendo qui c'è un compromesso tra efficienza e cioè vogliamo manutenibilità del codice cioè questo codice è chiaro e semplice tutto sommato no? qua dice togliamo questi commenti qua dice guarda quando voglio aggiungere un voto se c'è un conflitto o un duplicato genera errore ragionando dal punto di vista dell'efficienza di questo codice quindi le operazioni che vengono fatte esiste voto in conflitto fa una ricerca all'interno di tutti i voti quindi fa una visita una scansione dell'intero array list di voti intero adesso ci sono tre però immaginiamo che possono essere 30.000 la seconda chiamata fa anche lei un controllo sugli stessi elementi con un controllo leggermente diverso e l'effetto netto di queste combinazioni è che alla fine io questa condizione ce l'avrò vera se esiste almeno un corso un voto con lo stesso nome perché se il nome è nuovo il nome dell'oggetto V è diverso da quelli che ho già nel libretto di sicuro questa cosa qua mi dà falso perché nessun voto sarà mai in conflitto né duplicato se il nome del corso è diverso se invece il nome del corso è uguale in almeno uno anzi solo in una posizione perché per questo meccanismo è impossibile averne più di una se esiste già un nome un corso con nome uguale allora se il voto è uguale mi salterà fuori come duplicato e se il voto è diverso mi salterà fuori come conflitto per dire faccio due scansioni controllando il voto diverso uguale eccetera quando alla fine il test di cui qua avrei bisogno di fare è esiste già un corso con lo stesso nome che serve è molto più semplice vado solamente a controllare il nome del corso e faccio una scansione sola della lista allora dal punto di vista dell'efficienza mi verrebbe a dire senti facciamoci un metodo apposta per questa roba qui che controlli solamente il nome del corso e di vista già il nome del corso uguale sì no e potrebbe essere una scelta legittima no? è sicuramente più efficace perché scandisco la lista una volta sola anziché due dopodiché ci accorgeremo che forse questo tipo di ottimizzazioni non ci portano molto lontano no? perché anziché magari due millisecondi ce ne mette quattro ma chi se frega no? ci accorgeremo quando andremo più avanti con gli algoritmi più complessi che l'efficacia non sta tanto nelle piccole ottimizzazioni di questo genere ma diciamo così nelle ottimizzazioni più ampie nella scelta della struttura di dati migliore o nella scelta dell'algoritmo migliore se io fossi preoccupato adesso abbiamo tre voti ma se io fossi preoccupato dell'efficienza di questo tipo di ricerche e quindi immaginiamo di avere 30.000 elementi 100.000 elementi voti non saranno voti universitari ma farò lo stesso non andrei a fare questa ottimizzazione qui delle liste userei una struttura di dati completamente diversa ad esempio userei abbiamo visto la settimana scorsa una mappa la cui chiave sia il nome del corso ad esempio e allora a questo punto sapere se ci sono due corsi con lo stesso nome diventa un'operazione che a livello di accesso in una mappa è un'operazione istantanea una mappa a un set e qui non c'è bisogno di scandire tutti gli elementi della lista accedere a un elemento di una mappa è come accedere a un array list conoscendo l'indice io voglio il quinto elemento dell'array prendo quello di un array list prendo quello se fosse già una linked list per prendere il quinto elemento devo scorrere tutti i primi quattro quindi è un'operazione che richiede comunque una scansione parziale della lista quindi piuttosto che dire se ho 30.000 elementi con questa implementazione diciamo che ne scandisco in media metà perché non so se lo trovo a metà o no quindi ne scandisco 15.000 elementi qua e 15.000 elementi qua quindi ne faccio 30 l'ottimizzazione che dicevamo prima di fare una scansione sola che va a cercare solamente il nome del corso mi dimezza questo costo e quindi anziché fare 30.000 confronti ne farò solamente 15.000 ok se però io implementassi questa struttura data non come una lista ma come una mappa la cui chiave sia il nome del corso e il cui valore sia l'oggetto voto quindi mi mappa il nome sui voti su tutte le informazioni relative allora questo confronto richiede un accesso non 15.000 perché lo implementerei dicendo if this punto mappavoti punto get nome corso e mi dare l'oggetto voto e a questo punto posso fare il controllo anziché andarmi a cercare in una lista di 33 elementi se ce n'è uno con lo stesso nome ho una mappa che dato un nome mi dà già esattamente quel voto tra l'altro la mappa per sua natura impedisce l'inserimento dei duplicati la chiave deve essere univoca all'interno di una mappa e quindi è proprio impossibile avere due elementi con lo stesso nome se c'è ovviamente se lo inserisco faccio un put con un nome già esistente e sovrascrivo quello vecchio ok quindi questo per dirvi se non facciamo l'implementazione con la mappa ma se volessimo la potremmo fare nel senso che buttiamo via questa lista facciamo una mappa il lavoro dovremmo farlo solamente dentro la classe libretto la classe test non vede nulla continua dai stessi identici metodi la classe voto non ha bisogno di sapere nulla sì allora dovremmo aggiungere il metodo hashcode e l'equals dentro ma perché finora non ne abbiamo avuto bisogno ok quindi adesso questo esercizio è molto semplice però quando faremo esercizi più complessi prima di dire ok qua ci butto una lista ci butto una mappa ci butto un insieme ci butto quello che ci deve essere ragioniamo un attimo su qual è è strutturato il migliore in funzione delle operazioni che devo fare tutto questo ragionamento qua se non ci fosse stato questo metodo ad diciamo così intelligente non lo avremmo manco fatto perché le altre operazioni non avevano bisogno di questo accesso diretto per nome e se invece c'è bisogno di fare questo accesso diretto per nome troviamo un modo efficiente per farlo quindi non esiste di nuovo la struttura dati migliore per rappresentare certi dati esistono una serie di alternative strutture dati alternative per rappresentare i dati e la migliore dipende da che cosa ci dovrò fare il programma da quale operazioni il programma avrà bisogno di fare con maggior frequenza piuttosto che no in definitiva direi su questo programmino qua o non abbiamo problemi di dimensione dei dati sono poche unità poche centinaia e allora chi si frega dell'efficienza siamo nell'arco di qualche microsecondo risparmiato o no ma non ce ne accorgiamo neanche oppure i dati sono grossi questo è un problema di efficienza e allora buttiamo via questa lista facciamo qualcosa di più furbo buttiamo via l'implementazione con le liste e lo implementiamo con la struttura dati migliore ok quindi non andiamo a implementare a ottimizzare dove non serve e se ottimizziamo cerchiamo di farlo per bene non andando appunto a migliorare di un pochino una cosa che in realtà andrebbe reimpostata e ripensata diversamente più avanti chiaramente quando lavoreremo con dei dataset più ampi avremo anche modo poi di accorgerci di questi ragionamenti che finora vi ho fatto solo a parole ok andiamo avanti abbiamo fatto il metodo abbiamo implementato alla fine il 5 e il 6 e rivisto l'implementazione del 4 che l'altra volta ci piaceva adesso però l'abbiamo rivista perché ci serviva nel 6 e ci siamo accolti che si poteva implementare in modo migliore è normale nel ciclo di sviluppo si implementa qualcosa quando vedi che ti serve in un modo diverso lo devi rilavorare e reimplementare in questo caso abbiamo mantenuto la stessa interfaccia anzi l'abbiamo solo estesa ad esempio l'interfaccia di add aggiungendo un'eccezione che prima non c'era adesso 7 creare un libretto migliorato in cui ciascun voto maggiore o uguale di 18 viene incrementato di un punto e ciascun voto maggiore o uguale di 24 viene incrementato di due punti senza però superare il 30 tenere separati i due libretti e stamparli entrambi ok e quindi come dire io c'ho il libretto ufficiale e c'ho il libretto che faccio vedere a casa e quello che faccio vedere a casa i voti sempre un pochino migliori si potesse fare e quindi ho bisogno di un metodo che non vada a modificarmi i voti ufficiali ma mi crei un nuovo libretto allora chi deve farla questa operazione? dobbiamo creare un nuovo un metodo di chi che duplichi un libretto esistente e lo modifichi e modifichi il duplicato allora potrebbe essere un metodo nella classe libretto che cosa fa? è un metodo public che possiamo chiamare libretto migliorato cosa restituisce questo metodo? una lista? no un libretto un nuovo oggetto libretto ma non restituisce se stesso un modo per restituire il libretto ok return this no qui sto restituendo lo stesso libretto no ne voglio restituire uno nuovo che sia costruito a partire da quello precedente con dei criteri ok quindi in qualche modo ho una classe che ha un metodo per creare altri oggetti della stessa classe questo è uno degli esempi dei metodi di coglietti di factory cioè chiamo un metodo che mi costruisca un oggetto se io vado a vedere il test libretto tutti i metodi che ho chiamato finora sono su un oggetto libretto che ho creato io io test io classe test creo un oggetto e ci faccio cose per l'operazione dammi un libretto modificato io non mi creo un altro libretto che sarà quello modificato ma chiedo alla classe libretto stesso senti creami tu un altro libretto con certe caratteristiche quindi e perché con certe caratteristiche perché non me lo posso creare io a caso deve essere creato con certe regole che solo la classe libretto conosce perché lei sa quali sono i voti eccetera eccetera e quindi useremo sempre abbastanza spesso questo pattern in cui ho un metodo che crea un oggetto e non me lo crea a vuoto me lo crea già con certi dati calcolati in un certo modo un metodo appunto che chiamiamo di factory questo è un metodo di factory l'abbreviazione per dire un metodo che mi aiuta a creare un oggetto nuovo con certe caratteristiche che dipende di volta in volta perché il chiamante non ha tutte le informazioni per poterlo creare come serve per creare un nuovo libretto con i voti migliorati ci impariamo questo nome factory perché ogni volta dobbiamo evitare di rispiegare tutto questo concetto l'idea di avere questi nomi scorciatoia come dice questo è un metodo è un getter o questo è un metodo in un comparatore non stiamo ogni volta a spiegare cosa fa sappiamo qual è il suo ruolo allora ovviamente questa classe libretto deve creare c'è scritto chiaramente nel testo un libretto nuovo ok allora creiamo un libretto chiamiamo migliore non solo nuovo uguale new libretto e questo libretto dovrò popolarlo e quindi qua dentro posso creare una nuova lista di voti alla fine il libretto contiene solamente un dato la lista di voti in questo nuovo libretto migliore posso creare una lista di voti che parta da quella iniziale e poi la migliori che modi ho per farlo un modo potrebbe essere migliore punto voti uguale lis punto voti e poi la miglioro non scrivetelo perché è sbagliatissimo no questo perché è sbagliato esatto qua sto creando un alias alla lista di voti e quindi avrei migliore e voti che sono due libretti diversi ma condividono la stessa lista di voti e quindi sicuramente quando andrò a migliorare i voti del migliore in realtà vengono migliorati anche i voti di quello di partenza ma peggio ancora quando io aggiungo un voto al libretto normale questo automaticamente lo vedo anche nel libretto migliore io non voglio questo voglio creare una copia che poi può evolvere indistintamente quindi devo non creare un alias ma un clone di questa lista allora un modo potrebbe essere quello di creare una nuova lista che conterrà inizialmente gli stessi voti crea una nuova lista inizializzandola con gli stessi valori che c'erano dentro i voti esistenti in questo modo ho due libretti ciascun libretto ha una sua lista guardiamole questi new lo scrive in grassetto non a caso è un nuovo oggetto libretto che al suo interno in pancia contiene un nuovo oggetto lista quindi questo vuol dire che se io dopo che ho restituito questo ok ovviamente ci sarà un return migliore al fondo e in mezzo fai cose con i voti per farli più belli ma dopo questo return la lista contenuta nel libretto e la lista contenuta nel migliore sono due liste indipendenti quindi io posso cancellare un elemento dal libretto cancellare un elemento da migliore aggiungerlo di qua cancellare non c'è ancora il metodo ma farò lo stesso aggiungerlo di qua aggiungerlo di là e ovviamente le due liste non si parlano sono separate non si inquinano non vado a modificare una lista se sto modificando l'altra e quindi una volta che ho questo posso fare quindi ho fatto una lista separata posso migliorare i voti quindi se for voto v in due punti migliore punto voti vado fatemi solo aggiungere due punti di brutto poi lo sistemiamo v punto set punti dv punto get punti più due dovrei fare controllo col 18 col 24 col 28 poi lo facciamo però rimaniamo qua per il momento sul ragionare cosa abbiamo fatto agli oggetti ok quindi abbiamo aggiunto due punti a tutti gli esami del libretto nuovo migliore punto voti non è dis punto voti che migliore punto voti è una lista nuova che non ha nulla a che vedere con quella di partenza quindi qua al netto di fare qualche if in più dovremmo essere a posto e quindi andiamo a vedere il mio test libretto io potrei chiedere al test libretto sono qua dentro al metodo sempre di main provo a fare libretto migliore uguale lib punto libretto migliorato e quindi potrò stampare avevamo un metodo stampano del libretto migliore anzi diciamo così out punto print line libretto migliorato cosa c'è hanno salvato dall'altra parte ok facendo run dovrei vedere che libretto migliorato ha 31 di analisi 23 di fisica 27 di informatica che è maggiore dei voti che avevo prima anzi verifichiamolo perché abbiamo fatto un po' di stampa in mezzo quindi verifichiamolo confrontandolo con il libretto originario che sarà libe punto stampa così li abbiamo vicini ecco li abbiamo vicini ma se guardate i numeri c'è una sorpresa il libretto migliorato effettivamente ha i voti modificati ma anche il libretto originario non ha più i voti che aveva prima analisi 31 in realtà nel libretto originario aspetta allora diamo giungi un'altra print stampiamo il libretto originario prima di fare il migliorato allora l'obbietto originario quello originario davvero avevo 29 21 25 libretto migliorato vabbè 31 23 27 e poi però se ristampo di nuovo l'originario 31 23 27 però io in realtà ho fatto la copia della lista cos'è che non ho fatto la copia degli oggetti ho fatto quello che si chiama in gergo un clone superficiale shallow clone e non un deep clone non un clone profondo quando io faccio riga 80 creo una nuova lista con gli stessi elementi con gli stessi elementi non con una coppia degli stessi elementi quindi ho un oggetto lista diverso quindi un contenitore distinto separato però la prima posizione di questo contenitore ha una reference allo stesso oggetto vuoto della reference contenuta nella prima posizione dell'altro contenitore quindi ho due contenitori diversi che non hanno ciascuno la sua copia di voti ma condividono gli stessi oggetti voto quindi sono riuscito a disaccoppiarli per quanto riguarda l'aggiunta e la cancellazione se io adesso aggiungessi un voto facessi migliore punto ad quello rimane solo in migliore perché la lista conterrà un nuovo elemento ma l'altra lista del libretto non viene influenzata sono due liste diverse e questo nuovo voto sarà solamente di uno non dell'altro libretto ma i voti che già c'erano per come l'ho costruito vengono non copiati ma vengono condivisi quindi per evitare questo se io voglio davvero che la struttura dati possa evolvere indipendentemente in questo caso se devo cambiarci dei voti quindi voglio che cambi una e non l'altra dovrò fare una copia anche dei singoli elementi quindi non riesco a fare una botta così ma devo fare un ciclo in cui vado a travasare parto da vuoto e ci vado a travasare i singoli elementi dentro facendo una copia di ogni singolo voto quindi farò un ciclo per tutti i voti della lista iniziale dovrò aggiungere dunque dovrò fare migliore punto voti punto add di una nuova di un nuovo oggetto voto con i parametri che adesso dobbiamo mettere ah voglio mettere tre puntini per il momento ma non lascio mettere ok vai poi i parametri li sistemiamo quindi io sto creando un nuovo libretto che contiene al suo interno una nuova lista che è fatta di oggetti tutti nuovi tutti nuovi che saranno ovviamente copie inizialmente copie identiche di quelli che avevo già prima ok quindi io se faccio questo poi dopo miglioro i voti della lista migliore e l'altra però a questo punto i v punto get punti che avrò i set punti li farò su oggetti nuovi che ho appena creato sono miei di sicuro non sono più gli stessi del libretto originario allora è un lavoro che ovviamente devo fare se voglio avere due set di oggetti che siano modificabili indipendentemente se invece sapessi che quegli oggetti non li vado a modificare perché il mio programma non ha bisogno di modificarlo allora rimango nella versione precedente che è molto più efficace non vado a creare 30.000 oggetti nuovi che siano copie di quelli prima e poi tanto non li modificherò no condivido gli stessi oggetti ci sono una volta sola però chiaramente dipende dai casi in questo caso era ovvio che dovessi avere un libretto nuovo con dei voti diversi e allora devo passare da qua qui cosa devo fare? creare un nuovo voto uguale a quello precedente e allora la classe voto che costruttore ha? è un costruttore che si chiama stringintdate quindi devo fare v.getcorsa v.getpunti v.getdata qui si sta incasinando le parentesi getdata esame poi chiusa tonda per new voto e chiusa tonda per add andiamo a capo così si capisce qualcosa di più questi sono i parametri di getcorsa poi abbiamo chiusa tonda per new voto e chiusa tonda per add punto e virgola cioè costruisco un nuovo voto che sia una copia un clone nuovo ma una copia copiando i valori di poi volendo questo ragionamento non finisce qua perché uno dovrebbe chiedersi sì ma corso punti e data esame sono degli oggetti o sono dei valori primitivi perché se fossero degli oggetti a loro volta qua starei creando un nuovo oggetto vuoto che contiene al tuo interno una reference a un sotto oggetto che c'era già in un altro oggetto vuoto quindi fino a che livello devo fare questa clonazione diciamo così per avere i valori indipendenti fino al livello in cui ho oggetti che voglio mantenere distinti e possono essere modificabili indipendentemente in questo quadro mi fermo perché string è immutabile quindi non posso modificare oggetto stringa int è un primitivo e data esame è un local date lo vedremo anche se è un oggetto immutabile quindi sono oggetti che per una natura non hanno metodi per essere modificati e quindi che io abbia un alias cioè un riferimento o abbia un clone è assolutamente indifferente ovviamente dal punto di vista del codice è un po' scomodo avere sta roba qua qua dentro perché un oggetto v voglio fare una copia identica dell'oggetto v e io devo sapere quali sono i parametri da estrarre dall'oggetto v per mettere nella costruttura del nuovo oggetto cioè il fatto di fare una copia dovrebbe essere il lavoro dell'oggetto stesso non di chi lo usa e infatti ci sono due convenzioni in java per dotare gli oggetti di funzionalità di copia possiamo scegliere due modi diversi uno è il cosiddetto clone metodo clone e l'altro il copy constructor il metodo clone possono così essere entrambi il metodo clone adesso è una classe voto è un piccolo metodo di factory public voto quindi restituisce un nuovo oggetto senza parametri scusate clone però il nome del metodo lo devo mettere clone e farà quello che abbiamo appena fatto return new voto di v. dis scusate dis.corso dis.punti dis.datesame datesame quindi non ho bisogno di usare i getter perché sono dentro la classe quindi a questo punto un metodo che costruisce esso stesso un nuovo oggetto copiando i dati dell'oggetto esistente a questo punto il metodo clone è lui che saprà se deve poi a sua volta fare semplicemente una reference o un clone degli oggetti eventualmente in esso contenuti contenuti e quindi a livello di libretto è molto più comodo perché anziché fare tutta questa roba qua si direi semplicemente v.clone che è almeno mille volte più chiaro perché qui è chiaro che lo sto facendo sto creando una nuova lista con i cloni degli oggetti esistenti di nuovo la new viene fatta dall'oggetto stesso non la faccio io l'altro metodo per ottenere lo stesso risultato cioè fare in modo sintetico leggibile questa operazione vi accennavo è il cosiddetto copy constructor cioè aggiungere un nuovo costruttore qui noi abbiamo un costruttore base che chiaramente prende i parametri aggiungiamo un altro costruttore che prenda come parametro un altro oggetto vuoto cioè costruisco un voto prendendolo da un voto esistente perché qua ovviamente avrò un dis punto corso uguale v punto corso oppure clone oppure devo clonare nel caso di una stringa no non serve se fosse un altro oggetto complesso invece magari sì lo devo fare ok quindi in questo caso no mi basta copiare il reference perché sono tutti campi immutabili o primitivi quindi punti uguale punti dis punto data esame uguale v punto data esame qui dov'è la creazione del nuovo oggetto beh poiché questo è un costruttore può essere chiamato solamente con new e quindi è nella chiamata del new che viene fatto il nuovo oggetto e qua semplicemente lo popolo qui la new ce l'ho dentro del clone oppure c'è una chiamata è uguale ma l'operazione il lavoro sporco di andare a ricopiare i dati lo sa li fa l'oggetto solo l'oggetto stesso perché è lui che sa che cosa ha in pancia in questo caso se tornassimo al libretto scriveremmo migliore punto voti punto add di new voto divi crea un nuovo oggetto e lo inizializzo col costruttore copia il copy constructor che è un costruttore che prende un oggetto dello stesso tipo quindi mettiamolo come commento qua questo è copy di voto proviamolo nei due modi lasciamo il secondo facciamo run e questa questa volta con tutta la fatica che abbiamo fatto il libretto originario è rimasto in tonso non è stato modificato ovviamente facendolo in un altro modo uguale direi testiamo tutte e due ma direi che anche qua siamo a posto è chiaro che entrare uno due tre livelli dentro gli oggetti per capire se devo fare una copia o se devo fare una reference da un certo punto da un pochino di nausea questo non siete non siete non siete gli unici dimmi no quello che sta dicendo lui è ci potrebbe essere un problema se io andassi a modificare il corso di un singolo voto non si può fare perché il corso è l'oggetto corso è una stringa e non c'è modo di modificare quella stringa quindi io potrei fare un set corso di un oggetto ma di fatto il set corso va a rimpiazzare la reference alla stringa precedente con la reference alla stringa nuova e quindi in questo caso creo comunque un oggetto nuovo e vado a sostituirlo a quello precedente ma quello vecchio è ancora usato dall'altro oggetto se anziché una stringa fosse una lista allora lì sì ci sarebbe il problema perché a questo punto questo voto potrebbe avere la lista delle date in cui hai provato a darlo e allora se vai a modificare quella lista e l'hai copiata solamente così non l'hai clonata quindi per fare una copia totalmente indipendente uno deve clonare tutti gli oggetti fino a quando non si ferma a degli oggetti che siano o primitivi o immutabili le stringhe sono immutabili non c'è nessun metodo per dire aggiungo modifico un carattere dentro una stringa esistente sono obbligato a creare una nuova e se ne creo una nuova quella vecchia vuol dire che chiunque avesse riferimento a quella vecchia continua ad averlo quella vecchia lì rimane lì rimarrà immutata e immutabile ve ho accennato anche la data che abbiamo usato l'oggetto local date è un oggetto immutabile non c'è metodo di per sé modificato a differenza dell'oggetto date che invece le avrebbe quindi in questo caso siamo al sicuro con questo livello di clonazione non a caso si chiama deep copy perché va in profondità a volte fin troppo non vi nascondo che quando è possibile è meglio evitarle queste cose perché ci creano un pochino di complessità non tanto complessità del programma non tanto ma complessità mentale è parecchia quindi tante volte è sempre meglio dire anziché modificare gli oggetti che ho già ma senti facciamoci un'altra copia e lavoriamo sul nuovo ok questa era la grana del punto 7 io passerei prima la grana del punto 9 perché la vota è sommata solamente sui metodi di ordinamento questi al limite li possiamo riprendere più avanti ma invece qua c'è un'altra mini grana cancellare dal libretto tutti i voti inferiori al 24 vabbè sembra facile anche qua magari lo parametrizziamo non solo 24 rispetto a un voto esistente cancellare dal libretto quindi vuol dire modificare il libretto esistente vabbè aggiungiamo un metodo public void cancella voti inferiori al voto int punti abbiamo la lista voti la scandiamo se troviamo un voto che è minore o minore uguale cosa dice il testo minore vero inferiori quindi minore di questo lo cancelliamo allora possiamo iterare sulla lista for l'abbiamo fatto 100 volte voto v due punti this punto voti voto oggi non sono amico della tastiera v due punti this punto voti l'altra graffa if v punto get punti fosse minore dei punti soglia allora this punto voti punto allora devo cancellare l'elemento v remove allora remove cosa fa cancella un elemento in realtà remove è un metodo che può funzionare in due modi diversi può avere come parametro un index quindi io conosco l'indice di quell'elemento 0,1,2,3 oppure può avere come parametro un oggetto e allora lui va a cercare l'oggetto in primis che abbia la stessa reference ma se non ha la stessa reference che abbia lo stesso valore quindi chiama equals per andare a confrontarli in questo momento noi stiamo iterando sull'oggetto v quindi non abbiamo l'index non lo conosciamo possiamo passare l'oggetto stesso questa operazione di remove a essere a essere precisi rimuove il primo elemento remove the first occurrence of the specified element from the list cioè rimuove il prima perché se lo stesso oggetto v comparisse più volte nella lista che non è vietato cancella solo il primo se comparisse oggetti anche diversi quindi non hanno la stessa reference di v ma che siano uguali a v secondo quanto dice il metodo equals della classe voto allora cancella il primo che è equals al v che sto cercando quindi non ho il cento per cento di certezza che rimuove esattamente questo v ma ne rimuove uno il primo che trova che sia equal a lui quindi se la stessa reference ovviamente è uguale se non la stessa reference va a chiamare se va a vedere quindi non è proprio perfetto inoltre il metodo remove per fare questa roba qua scandisce la lista del primo elemento fino a cercare quello quindi non è proprio particolarmente efficiente sto scandendo la lista so che devo cancellare l'elemento numero 100 per cancellarlo devo ripartire le remove devo ripartire scandire la lista da 1 fino a trovare quell'elemento da cancellare ma non è questo tanto il problema di nuovo se ci interessasse l'efficienza non useremo una lista ma se io facessi il lib punto cancella voti inferiori a 24 e si arrabbia perché non ho ancora salvato l'altra parte con la sua massima intelligenza di eclipse non si arrabbia come? si devo stamparlo ma io mi aspettavo un'eccezione aspetta vediamo se funziona cosa ho implementato qua punti vabbè proviamo a stamparlo lib ho modificato non quello migliorato maggiore 24 ok allora queste operazioni le posso fare così le potrei fare iterando sull'indice quindi usando l'altra forma di remove che in realtà è più efficace perché mi va a eliminare l'indice però sono sono entrambe sconsigliate e allora dis.voti.length size potrei anche farlo così col classico ciclo con il classico ciclo if v. di nuova non è più v ma è dis.voti di punto get punti minore di punti allora a questo punto posso usare la forma di remove a cui passo l'indice a cui passo l'indice dis.voti punto remove di sì non posso guardate punto get di quindi accedo a un array list usando l'indice e qua sembra funzionare tutto in questo caso l'ho cancellato due volte però proviamolo con l'altro for per vedere che funzioni in entrambi i modi adesso io però voglio fare una modifica al test libretto e aggiungo un altro voto qua dopo fisica 2 chiamiamola fisica 3 di nuovo un voto inferiore alla 24 per fortuna non ce l'abbiamo fisica 3 ma fisica 3 non solo non ce l'abbiamo ma è carogna e non scompare allora cosa succede? fino a qua tutto bene no? fino al libretto originario di nuovo eccetera abbiamo fisica 2 fisica 3 eccetera poi abbiamo chiamato il metodo cancellami tutti i voti minori di 24 fisica 1 che valeva 21 me l'ha cancellato fisica 2 scusate e il fisica 3 non me l'ha cancellato eppure il mio codice non era sbagliato andiamo a vedere cosa sto facendo sono qua? sono qua se i voti di minore di 24 rimuo ma infatti me l'ha tolto il 21 perché non mi ha tolto l'altro che era 22 di fisica 3 esatto perché quando io modifico la lista su cui sto iterando cancello cancello l'elemento in posizione 2 0 1 2 il terzo elemento no scusate il secondo elemento in posizione 1 cancellando quell'elemento tutti gli altri elementi si spostano indietro in una posizione poi io incremento l'indice con quell'i++ e quindi sto saltando un elemento cioè io quando cancello un elemento così l'elemento successivo non lo guardo più perché ho incrementato l'indice ma l'indice incrementato punta all'elemento che prima era due elementi dopo quello che ho cancellato non quello immediatamente successivo perché tutti gli elementi sono spostati indietro questo problema c'è sicuramente se uso gli indici poi a seconda del codice che scrivo potrebbe verificarsi anche forse se usiamo vediamo se si verifica anche nell'altro caso anzi si verifica peggio nell'altro caso che è il caso che preferisco perché mi dava un'eccezione però abbiamo visto che prima non me la dava l'eccezione cosa dice questa eccezione è un nome strano questa eccezione qua che è il motivo per cui volevo farvi questo punto dell'esercizio e poi vi lascio concurrent modification exception il nome spaventa un po' concurrent cosa vuol dire sto facendo le cose in parallelo concorrenti no è una cosa molto più semplice vuol dire stai iterando su una collection e dentro l'iterazione sulla collection stessa stai cercando di modificarla potrebbe chiamarsi se è un peer exception non si va a segare il ramo su cui sei seduto se non sai esattamente cosa stai facendo ok allora quando si usa l'iteratore for vote l'iteratore capisce cosa sta facendo e non sempre ma si accorge che qualcosa non va abbiamo visto che prima non se ne era accorto dipende dai dati che ha che ci sono dentro no delle operazioni che ci fai a volte se ne accorge mi da questa eccezione che mi sta dicendo fai attenzione se io lavoro con gli indici non ho nessuna protezione perché sto lavorando più a livello basso e quindi ogni cosa che faccio è chiaro che si può far funzionare nel senso che con gli indici dico vabbè se ho cancellato un elemento decremento i di un'unità eccetera eccetera poi devo fare attenzione che anche questo size diminuisce di 1 ogni volta ad ogni iterazione la morale è ogni volta che itero che devo modificare una lista o una qualunque collection non fare mai le modifiche dentro il ciclo in cui sto cercando gli elementi ok non si modifica la lista su cui stai iterando mai cosa dovrei fare in questo caso non abbiamo tempo lo vediamo la prossima volta dovrei magari crearmi un'altra listarella di comodo con gli elementi che voglio cancellare e poi li cancello iterando la seconda lista degli elementi da cancellare cancellandoli sulla prima quindi ogni operazione add o remove di aggiunta o modifica aggiunta o cancellazione ovviamente modificare il singolo dato va bene ma se devo aggiungere o cancellare elementi non lo devo mai fare da un ciclo che stai tirando sulla stessa lista che voglio modificare altrimenti ho un'eccezione oppure rischio di avere risultato sbagliato e questi sono gli errori anche difficili da trovare perché dipende da come sono messi i dati se il malfunzionamento si verifica oppure no ok grazie per oggi ci vediamo come al solito no mercoledì questa volta ci vediamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti